È in gioco, pensate, una finale del campionato del mondo. Anzioni! Com'è questo mondo del cinema? Il colpo di testa è pieno, in tiro! E' un gol di schiena su! Ha scritto un copione che è una favola, una bomba. È in trinno la storia del cinema! Volete fare gli sceneggiatori, ma non sapete fare gli spettatori. È bellissimo fare gli spettatori, appassionarsi alle persone. Sono degli assassini, non hanno ammazzato loro. Sono immagini che non avremmo mai voluto commentare. Mi lasciate solo per il suo cuore. Io devo lavorare, devo fare l'amore, ho il diritto di essere felice! Te ne sei solo. Forse c'è un destino, un disegno. Tutto ci portava qui. Al prossimo episodio